Salve, sono urbano della Sanio Moreno Volkswagen Audi di Fucecchio, oggi vi presento la nuova arrivata nel nostro parco vetture usate, si tratta di questa Audi A3 Sportback ed è un 1.6 turbodiesel 115 cavalli camber Cetronic dell'anno 2018, unico proprietario e attenzione ha anche la cosiddetta IVA esposta, quindi fatturabile con l'IVA esposta. Andiamo adesso anche a vedere le specifiche della nostra auto partendo dalla carrozzeria esterna, di questo bel colore nero, sempre molto brillante, infatti come potete vedere non ci sono ammaccature, non ci sono graffi, esternamente la macchina è molto molto bella. Adesso andiamo a vedere le specifiche degli accessori e partiamo con i sensori di parcheggio posteriore che in lega da 16V con gomme e spive sempre tutte ancora da sfruttare e poi i nostri fari Xenon anteriori con le luci diurne a led. Adesso siamo anche all'interno della nostra auto e guardiamo i particolari, partiamo a vedere il cruscotto anteriore con le plastiche sempre belle da vedere, lucide, non ci sono graffi, non ci sono parti consumate nemmeno sulla sulle parti verniciate metalliche, quindi torno a dire bellissimo da vedere. Console centrale a questo punto dove abbiamo tutti i nostri interruttori per le varie funzioni. Partiamo dal freno a mano elettronico, interruttore poi tra l'altro per avere il menu totale sul nostro display centrale per avere anche qui tutte le nostre funzioni. Tutte le nostre funzioni significa si può partire dal dal suo navigatore, guardate qua bellino, tutto a colori, viva voce, radio e poi troviamo anche computerino di bordo, abbiamo anche l'Audi Drive Select dove io posso modificare lo stile di guida con la mia auto quindi modifico il tiromotore tramite centralina e modifico anche sia la funzionalità del cambio sia la scatola di guida. Il display lo posso anche richiudere nel caso in cui mi dasse noia nella guida. Climatizzatore manuale con tutte le sue lucine, leva del cambio S-tronic con tutte le posizioni e la posizione anche la D-S che sarebbe la Drive oppure Sport. Vediamo il suo volante multifunzione con anche l'interruttore del comando vocale sulla sinistra per le altre varie registrazioni sempre per lo stereo. Chilometraggio 91.789 km naturalmente certificati. In basso ancora la levettina del cruise control, mentre sul pannello sinistro troviamo anche i vari interruttori dei vetri elettrici, l'interruttore per la regolazione elettrica degli specchietti con in più la posizione per essere ripiegati o aperti elettricamente. Quindi anche internamente una vettura veramente completa e molto bella da vedere. Passiamo anche alla tappezzeria interna di questo bel tessuto nero. Anche questa si presenta in un modo veramente eccellente. Non ci sono strappi nel tessuto, nelle cuciture, non ci sono buchi di sigarette anche perché il precedente proprietario non fumava. Quindi l'interno vettura risulta proprio bello, bello e pulito. Pulito perché come il nostro solito le tappezzerie vengono lavate e igienizzate a vapore con questa lavorazione specifica. E infatti l'accoglienza all'interno della nostra vettura risulta veramente eccellente. Come vi ho già detto bella pulita profumata. E anche il vano bagagliaio bello da vedere pulito con il suo sedile sdoppiato. Pulito perché ha avuto la stessa lavorazione quindi lavaggio a vapore della tappezzeria. Adesso anche la meccanica. Quindi vano motore. Anche questo pulito, bello da vedere. Con tutte le sue parti in plastica, tutti i suoi componenti al loro posto. Tutto al loro posto anche perché le nostre macchine usate, prima di essere messe in vendita, vengono sottoposte ad un accurato controllo. Come? Seguendo una nostra checklist multicontrollo interna e sono praticamente 110 punti da verificare singolarmente affinché la vettura sia completamente funzionante. Dopodiché ci viene abbinato 12 mesi di garanzia come prescrive la legge con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. possibilità anche di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni che vi saranno naturalmente spiegati insieme. A questo punto salite in macchina insieme a me e andiamo anche a fare un giro di prova e adesso partiamo per il nostro giro di prova. Intanto nel salire sulla macchina la prima cosa che notiamo, come vi ho detto, è proprio l'accoglienza dell'abitacolo. Bello pulito profumato posizione di guida ottima. Ragazzi, l'Audi ha una posizione di guida spettacolare. Sedile veramente confortevole, volante posizionato nel modo giusto anche perché lo possiamo regolare in altezza. Cambio S-tronic, facile da guidare. Tocco di acceleratore, la vettura va via liscia e comoda senza nessuno strattone. Quindi diciamo che il cambio ha un ottimo funzionamento. Assetto stradale perfetto perché il volante va dritto, è dritto e la vettura va dritta su strada. Scatola di guida anche questa ottima perché non sentiamo nessun tipo di gioco quindi guida abilità generale come vi dicevo eccellente. Passando alle sospensioni andiamo nella classica strada dove ci sono le buche per sentire il loro lavoro. Ebbene, sentiamo sì il loro lavoro ma l'interno abitacolo è veramente sempre molto silenzioso. La vettura è naturalmente già stata controllata, completamente funzionante, quindi pronta per essere acquistata. Poi un'altra cosa importante, se abitate lontano ve la possiamo anche presentare in anteprima come in diretta tramite whatsapp video. Ci colleghiamo in diretta con una telefonata video, ripeto tramite whatsapp e ve la facciamo vedere proprio in ogni particolare e spiegare. Quindi quando deciderete di venire poi personalmente la vettura la conoscete già. Passando alla meccanica, anche questa un ottimo rapporto potenza e sfruttabilità con i suoi 115 cavalli. Il motore risulta silenzioso, godibile sotto il profilo anche della guidabilità. Pronto in accelerazione e poi ragazzi col cambio S-tronic quando si viaggia anche in autostrada è veramente eccezionale. La macchina va via come si dice liscia che è una meraviglia. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni. E adesso vi invitiamo a visitare il nostro sito diretto autosani.it dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi sui social Facebook e Instagram al nostro indirizzo Sani Fucecchi. Vi ringrazio per l'attenzione. Vi aspettiamo naturalmente presso il nostro punto vendita di Fucecchi oppure telefonate ai nostri numeri. Vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie ancora e come diciamo sempre alla prossima vettura.